Tante le quote rosa protagoniste sabato 4 dicembre sul palco del Teatro Vaccai di Tolentino per la serata I tanti volti delle donne. Ciascuna di loro, anche se in maniera diversa, ha raccontato una storia fatta di impegno, sacrificio, famiglia e amore. E da quella che nella quotidianità può apparire come vita normale è emerso il grande cuore della donna. Con grande felicità che mi appresto a commentare e a introdurre questa serata bellissima al Teatro Vaccai che riguarda il mondo delle donne, della donna in generale, della sua grande caratura, della sua importanza, del suo spessore, di tutte quelle che possono essere doti insite e contenute in un essere splendido appunto come quello della donna. La donna è una cosa meravigliosa perché può interpretare nella vita ruoli molto importanti come la mamma, come l'imprenditrice, come la moglie, così come anche in carriera per qualsiasi motivo, così come l'uomo è ancora meglio dell'uomo. Ecco, quello che ci farà abbia ancora oggi e che voglio sottolineare con forza è proprio la scarsa sensibilità che ancora un certo tipo di mondo ha nel proteggere questo cammino e questa crescita enorme del mondo femminile con adeguate normative, con adeguate leggi, con adeguati atteggiamenti per punire, per bloccare, per individuare sul nascere e quindi anche poi frenare e punire tutti quegli atteggiamenti che purtroppo ancora oggi, nell'anno 2021 siamo ormai in conclusione, ci feriscono interiormente, ci feriscono come civiltà, ci feriscono per la brutalità dei gesti che molte volte non si limitano al perseguire il mondo donna ma anche purtroppo nei casi di divorzi o di traumi anche di carattere affettivo anche ai figli, ai piccoli. Noi oggi ci troviamo qui al Teatro Vaccai a parlare di donne, lo facciamo quest'anno in un modo diverso dal solito perché vogliamo dare un messaggio positivo a tutti, a tutte noi. Incontreremo queste donne che sono secondo me delle donne straordinarie e sono straordinarie perché fanno qualcosa di straordinario e neanche si rendono conto di esserlo, lo sono perché per loro è la vita normale, quindi la straordinarità sta appunto nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Mi devo un po' scusare con le tante donne che non siamo riusciti a chiamare perché ovviamente non potevamo far durare questo spettacolo, questo evento insomma tutta la nottata o forse anche più, abbiamo ovviamente dovuto fare una scelta, la scelta non necessariamente insomma sulla base di chi meritava o non meritava, insomma sicuramente sono state altre le motivazioni che ci hanno fatto scegliere determinate situazioni, ma Tolentino ha davvero tante donne, come dicevo prima, appunto straordinarie che meritano di poter raccontare le loro storie. È stato un evento speciale che ha ottenuto un grande successo, un teatro vaccai pienissimo per questa iniziativa, i tanti volti delle donne. Abbiamo raccontato le donne attraverso le parole, attraverso le immagini, attraverso la musica, la danza e la pittura. È una grande soddisfazione realizzare degli eventi che puntano alla sensibilizzazione e del rispetto delle donne, ovviamente insieme agli uomini. Io ringrazio ovviamente tutte le istituzioni del Comune, la Commissione Pari Opportunità, Monia Preoretti, l'assessore dei servizi sociali Francesco Colosi e l'assessore alla cultura Silvia Tatò per la fiducia che mi hanno dato.